Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto, molto bene, come state, come state, oggi sono qui solo per voi, per fare un video dove vi darò soltanto la buonanotte per tutta la durata del video, ecco. Quindi, se tu sei pronto o pronta a vedere questo video, indossa un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Quindi io parto con questo video, accompagnerò il tutto con il pennello e magari farò anche un po' così, vedremo un po' cosa fare, va bene? Quindi io direi partiamo col pennello. Buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte buonanotte 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 Una piccola cosetta, per questo video non ho voluto fare come per esempio fanno altri ASMR artist di tagliare l'outro dei video precedenti, metterla insieme e poi pubblicare il video, perché non lo so, sinceramente questa cosa non mi è mai piaciuta più di tanto preferisco creare un contenuto nuovo che abbia però lo stesso significato di questo video, quindi in sostanza darvi tante volte la buonanotte 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 Buonanotte, 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 buonanotte. se per caso vedete i miei occhi un pochino lucidi è perché la ring light mi dà un po' fastidio agli occhi però mi sembra sia passato comunque continuiamo a dare la buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte che sono? buonanotte 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 buona notte 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 buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte buonanotte 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 ripreniamo il pennello buona notte buona notte buona notte non so se questa cosa vi può interessare però io ve la dico lo stesso il 16 gennaio ho il primo appuntamento dal dentista per rimuovere penso tutta l'argata superiore dall'apparecchio appunto mentre il 31 gennaio ho l'appuntamento per rimuovere tutta l'argata inferiore perché ho concluso il mio ciclo dentistico possiamo dire dai quindi poi dovrò soltanto mettere l'invisalign penso la sera per fare in modo che i denti restino fermi questo fino ai 18 anni poi buona notte 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 buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte Buonanotte Buonanotte buona notte 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 Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Quindi, cucù, cucù, penso sia giunto il momento di darvi la vera e propria buonanotte. Quindi, iscriviti al canale, se sei nuovo, per entrare a far parte della OOPS community. E se sei un maschietto, diventare un miopsino, mentre se siete delle femminucce, diventare delle miopsina. Poi, lasciate un bel mi piace, proprio qua sotto. Se questo video vi è piaciuto, io spero proprio di sì, quindi lasciate molti mi piace, va bene? E inoltre, commentate con tutto, 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 quello che vi passa per la testa, va bene? Il video di oggi, purtroppo, finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist. E qua, da qualche parte, nello schermo, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate. Va bene, dai. Io ti auguro ancora la buonanotte. Buonanotte, spero ti sia riuscito ad addormentare. Adesso, un bacio. E noi ci vediamo ad un prossimo video, va bene? Buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte.